Ti piace un uomo ma non sai come dichiararti, come farglielo capire insomma? Ma diciamo che la cosa fondamentale è non dichiararsi a livello verbale, devi farglielo capire a livello non verbale. È ovvio che non devi essere eccessivamente manifesta nella tua dichiarazione, perché se verbalizzi, ad esempio, caro Mario, mi sono proprio innamorata di te, non vedo l'ora di stare con te, è un indicatore di interesse eccessivo, potrebbe far diminuire un po' il desiderio. Inoltre toglierebbe a Mario, diciamo così, il piacere di conquistarti. Se tu ci provassi direttamente, spudolatamente su un piano fisico, potresti sembrare eccessivamente aggressiva, per cui Mario metterebbe in moto dei meccanismi di difesa logici, per cui non ti vedrebbe mai probabilmente come la persona giusta per un rapporto a lungo termine, ti cercherebbe prevalentemente da un punto di vista fisico-sessuale. Se però mandi dei piccoli segnali, ad esempio degli ammicamenti, cerchi spesso il dialogo con lui, degli indicatori di interesse abbastanza palesi, gli sorridi, soprattutto cerchi di comunicare con lui e di, come dire, vederlo in situazioni in cui non sono presenti altre persone. Ancora meglio, se sono presenti altre persone, vai a cercare magari di creare qualche situazione in un contesto in cui potete avere modo di parlare da soli, di fare delle domande in modo tale che lui possa aprirsi. È molto importante che tu gli chiedi delle cose, anche perché ti serve per capire come interagire. L'importante è che sia tutto abbastanza velato. Ora, però, potrebbe succedere che questo Mario, nonostante tu gli mandi questi segnali, lui resti indifferente. Sembri non cogliere questi segnali, oppure li coglie ma non li manifesta. Non sai se è per timidezza o se è perché invece ha qualche altra situazione. Allora, come fare in questi casi? Beh, in questi casi devi, come dire, calcare un po' la mano e inserire qualche stimolo di natura erotica senza però, diciamo, che sia palese. Se hai possibilità di entrare in contatto con lui, ad esempio, e non è un soltanto un qualcosa di virtuale, cerca di utilizzare stimoli visivi, esibendo, magari chiudendo, scoprendo e coprendo, qualche contatto fisico casuale in cui magari ti appoggi un po' di più nei suoi confronti. Insomma, cerca di dare qualche stimolo. L'importante è che non siano solo stimoli fisici, ma devi introdurre anche la verbalizzazione. Devi fargli delle domande, perché per un uomo è molto importante poter esternare ciò che pensa di se stesso. Insomma, comunque, trova gratificante su un piano logico e si tranquillizza se una donna gli chiede cosa fai, cosa ti piace fare, quali sono i tuoi interessi, insomma, quali sono le tue passioni. Tutte queste domande, diciamo, lo portano perlomeno a ricambiare la cosa. Nel momento in cui lui ricambia, hai poi la possibilità di entrare in un contatto più intimo. E quindi con questo mix, diciamo, di situazioni, dovrebbe capitare che lui in qualche modo manifesta un interesse nei tuoi confronti che deve concretizzarsi poi o con un invito o magari se siete collegati via Facebook piuttosto che via WhatsApp, qualche messaggio in modo tale che si crei poi un'intimità maggiore e ci sia una concretizzazione poi attraverso un invito. L'importante è che tu riesci prima a capire delle cose di questa persona. Tutta la parte introduttiva serve proprio a capire la persona che è di fronte, le sue esigenze emotive, così poi quando inizierai ad uscirci avrai già una chiave per, diciamo, mandare gli stimoli giusti. Quindi fallo parlare, devi entrare in contatto con lui facendo domande e lasciando che si apra, dimostrando un interesse sia verbale ma anche e soprattutto non verbale. In questo modo lui farà qualche passo. Se proprio non lo fa, beh, significa che c'è qualche vincolo, qualche impedimento che dovresti capire qual è per poi abbatterlo. I vincoli, come ho spiegato in altri video che ti suggerisco di andare a vedere, possono essere o vincoli logici o vincoli emotivi. Se vedi video troverai poi le risposte. Per questo video è tutto. Iscriviti al canale, metti un like e seguimi sul blog istituzionevip.com. Ciao!